La sede della regione è la sede di questi confronti che non possono essere solo relegati o meglio valorizzati da altre istituzioni culturali o associative. La regione è la sede di tutti, quindi la sede istituzionale per affrontare un problema serissimo, il femminicidio. I dati di cronaca sono molto preoccupanti, le cose che sono avvenute e che avvengono, io dico in generale sul soggetto più debole, come qualsiasi elemento di violenza. Qui oggi in presentazione di questo bellissimo libro rappresentiamo dieci storie dure da leggere dove ci sta il femminicidio, ci sta la violenza della camorra, della criminalità comune, quindi molto dura e forte. Le istituzioni devono essere, per rispondere alla domanda, in prima persona impegnate a fare il massimo possibile, non si fa mai a sufficienza. Noi ci mettiamo la nostra piccola parte anche con un finanziamento del fondo delle politiche sociali per i centri antiviolenza che abbiamo finanziato di recente pur con tutti i tagli che ci vengono chiaramente dal governo nazionale.